Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, oggi siamo qui con il primo episodio di Mastur Skilling to 50 goals Praticamente è una serie in cui cercherò di portare a Kim Mastur, nuovo giocatore del Malaga, skiller 5 stelle massabilità molto giovane del Milan Diciamo alla cifra di 50 goal, una cifra abbastanza alta, ma come raggiungeremo questi 50 goal? Grazie all'aiuto di altri skiller che accompagneranno a Kim Mastur, sarà una serie in cui le skills avranno una componente molto preponderante Ma lui aveva una squadra davvero molto buggata per quanto riguarda i giocatori della Barclays Premier League C'è Zarate, niente male, qui iniziamo subito la partita, nel calcio d'inizio, qui subito un'azione del nuovo 5 star skiller Sbuffal, Fake, Rabona, una waka waka incredibile, riesco a passare nell'area e vengo falciato incredibilmente dal difensore centrale Inizia subito benissimo questo Mastur Skilling to glory in cui grazie a delle skill siamo riusciti a ottenere un rigore Non lo faccio tirare naturalmente a Mastur, vado con Amrabat che segna il calcio di rigore Ma diciamo che l'avversario aveva un po' provocato all'inizio Quindi ho deciso di rispondere ai commenti dell'avversario con questo gol, anche molto bello secondo me Quindi le prime skills qui subito Mastur mette in mostra le sue qualità con una fake Rabona e viene subito falciato molto nervoso l'avversario Quindi la partita era messa molto bene per quanto riguarda la mia squadra Anche se devo dire molto economica, però diciamo a un certo punto della partita al quindicesimo ci dà un rigore a me sembra molto strano L'arbitro africano di che abita questa partita va Shane Long da dischetto e mi frega il mio portiere Anthony Lopez E dopo naturalmente partono gli sfottò dell'avversario che ha portato al pareggio la sua squadra Comunque diciamo che stava giocando bene fino a questo episodio un po' strano Infatti proprio pochi minuti dopo prendiamo una traversa clamorosa su calcio d'angolo Mentre anche lui successivamente prende una traversa davvero molto pericolosa su una punizione davvero magistrale Becca diciamo un rimpallo fortunato che mi sembra molto buggato in questo gioco i rimpalli dei portieri E quindi riesce ad andare di nuovo a segno con un giocatore che non ho visto chi fosse ma comunque viene a provocare con le nuove esultanze sulla telecamera Ma subito non ci perdiamo d'animo e ripartiamo con Bufal che è stato diciamo il skiller principale fino adesso visto che Mastur non ha inciso molto in questa partita E Bufal riesco quasi a penetrare in aria ma dopo sbaglio la direzione della Veronica e quindi mi intercetta palla Altra azione qui bellissima di Mastur con una Ronaldo Ciofrice a penetrare in aria ma viene fermata qualche rimpallo fortunato Ma non riesco a concludere qui erroraccio del suo portiere che è Vorm Riesco ad andare davanti alla porta con Amrabat e qui però fa il salvataggio incredibile Molto migliorati secondo me quest'anno i portieri visto che mi sembrano quasi impenetrabili Se non che proprio sul calcio d'angolo lui fa un'uscita del portiere piuttosto avventata E riusciamo a pareggiare questa partita diciamo quasi isperata visto che molti episodi erano stati a nostro sfavore Riusciamo a portarci sul 2 a 2 circa all'ottantesimo Tant'è che riusciamo quasi a portarci in avanti grandissima palla di Mastur proprio per Bufal Che è da solo davanti a Vorm ma ci recuperano i difensori Quindi questo primo episodio con Mastur e altri skiller niente male come Bufal si conclude con un buon pareggio Devo ancora abituarmi a questa squadra io vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuta questa mia serie Scrivetemi qui sotto nei commenti quali skiller affiancare a Mastur e come migliorare la squadra Detto questo ciao a tutti ragazzi al prossimo video